Ciao ragazzi, voglio dire questo nuovo episodio di Minecraft. Siamo in compagnia con... Storm, per un panino mi dai... 3 di ferro. Ferro? Per un panino 3 di ferro li vuoi? Se io ti do un panino mi dai qualche ferro? Se io ti do... Tu mi dai del ferro, tu mi dai panini. Mi fermo? No, non scusami. Luì, se ti do... No, Luì, come si chiama? Lu, se ti do un panino mi dai qualche ferro? No. E dai. Allora, ritorna il ritorno della sabbia. Mi serve un'altra volta sabbia. Vi avete portato tutti per questo. Va bene. Dai, dammi un poco di ferro. No, è mio, me lo sono scappato lì. Ma quando vado io non trovo niente. Me lo posso scappare. Mi serve vetro, mi serve sabbia. Mi serve un'altra volta. Mi serve un'altra di ferro. Mi serve un'altra di ferro. Mi serve un'altra di ferro. Mi serve del vetro. Veto, si. E pure ferro. Si puoi un'altra di ferro. Pure ferro. Vi ha un'altra di ferro. Eh? Gli ingegna ti fa qualcosa che comodo non fa. Lui ci sono quale a te. Eh dai, è solo, io ci sono rimasto senza niente, madonna mia. Gli ti ingordi. Egoisti. con la pala ti ho picchiato, c'ho un mezzo cuore, stai fermo e lo so, c'ho un mezzo cuore, mi è rimasto, stai fermo quindi se ti do il cibo tu mi dà il ferro che cibo? costolette di maiale arrosto uaaaaaa aiuto un vero per ogni costolette, me lo dai? no 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 dai c'ho un mezzo cuore ah lui è male questo play con le nuove diamanti con le caratteristiche ok seguite le costolette di maiale eh grazie mi date qualcosa ma se io metto il presupposto di ferro di muro, non plastica no però manco tu l'attivi dai mi date qualcosa di ferro no ti ho ucciso il ferro? dai mi mando oh ma io vi ho fatto la casa, che andate trovando? eh si ma ho qualcosa e cosa? e dai c'è giovanni fate la carità fate la carità fate la carità io non ferro quindi disgraziato verrai umiliato un giorno che si può fare con il giamato? dammelo a me no no sono meglio i panni è un joan d'in table si non solo a voi il libro eh però ma che crescono le panni da qui ah no salvo la pelle qui Luca secondo me non ti faccio il panino che vuoi? Luca non ti faccio il panino Luca ascolta mamma ti do una missione guarda cosa? ti do una missione Giova ti ho lasciato il panino chi se l'ha preso? ah no Luca eh? allora prenditi la barca aspetta io fai una cosa prendi una barca un po' di grano e poi devo mettere un altro poco di grano oh chi è che stava cuocendo il vetro? hai capito Luca hai detto è forse una metà qua si chi è che stava il vetro chissà che lo stava cuocendo ma in quale caverna siete andate me l'imbarate pure a me si vabbò sto parlando con il muro si il muro si risponde si risponde dai mi dacci lui vuoi cibo? e tu dammi del ferro perciò grafico ma va io ve lo vedo l'altro si ma qua sembra che stiamo facendo una serie a parte tu non sono regalante io muoio il pan si il vetro dov'è? chi lo stava cuocendo? io ce l'ho del vetro e dammi dove sei? nella casa mia chi è? no il vetro cubico e accontentiti di questo ah? e ci vuole per forza quello cubico e poi te lo do e poi te lo do ma ce l'hai a sabbia? qui andiamo a prendere dei bonnini dei bonnini? c'è su un mario giuseppe insieme ci dovremmo a recuperare le cose animali Luca se ti do cibo lui vieni con me se? se ti do cibo lui vieni con me ti è oh quanto cibo? hm ma non posso venire dove ti fa le facciamole qua le facciamole qua andiamo togliamo c'è le andiamo ma sbagliate le quelle qua pure per te sbatto la porta tutto abbandonato oh ma il carbone che ce l'ha? io ne ho poco io ne ho poco ui sto arrivando con la tua barca giovanna non me lo rubare mai io non posso venire lo faccio la uso non mi passa no Luca devi venire in questa direzione vieni si allora siamo pronti ma il magazzino ce lo fanno loro andiamo in caverno no angelo prima il cibo voglio aspetta il pomo che non mi dà oh ma il cibo chi me lo dà vieni il cibo è fatto no non uccidere lo posso fare chi mi dà il cibo andiamo 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 madonna Luca io vado e mo lo vedi lo vedi così facciamo la lavata qua è chiuso non è certo ma è chiuso qua 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 è chiuso ci terranno qua è chiuso oh ma tutto hanno preso oh e non c'è un buco libero oh oddio madonna oh ma che avete fatto tu nei sotterranei vai giù qua va a morire ah io vado qua c'ho tre pochi guarda la grande sotterranei avanti 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 scappa lì Istanete guardate il secondo me la gente vanno 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 scappa in quel nito dai voglio ferro dai voglio dire che per questo episodio è tutto ok ciao